Ciao ragazzuoli e ragazzuole, back in the stanzetta, come potete vedere, sono tornata in questa solita location perché non fa più così tanto caldo, quindi si può tornare tranquillamente in questa stanzetta a girare i video e come vedete questo è un tea time, quindi rilassatevi, mettetevi comodi e solito prendetevi, non so, il teuccio, la merendina, non lo so, come di solito lo guardate all tea time o se ve lo mettete di sottofondo mentre siete in macchina, mentre state facendo i mestieri di casa una volta mi taggavate mentre facevate i mestieri di casa, adesso non so, non mi avete più taggata però una volta so che funzionava così, che bello tra l'altro questa cosa, ho questa comodità tipo il poggio a gomito della macchina, che in realtà è una roba che odio che infatti io non ho tra l'altro perché è la mia macchina, ce li ha tutti questi comfort allora, prima di iniziare a parlarvi delle ultime letture, volevo fare una premessa non so quanto tempo mi porterà via questa premessa, quindi facciamo così che io nel linfo ciccino poi vi scriverò da che minuto partono i... perché io non lo so fare quella cosa delle divisioni, che forse mi dovrei imparare prima o poi, ecco e questa cosa infatti mi agita un po', sono sincera facciamo che da che minuto vi metto parte poi invece le recensioni delle ultime letture volevo farvi una premessa perché non mi sentivo di fare un video a parte perché un video a parte mi sembrava un po' troppo lamentazione un po' troppo una cosa del tipo guardatevi, sono io, mi devo lamentare un po' della questione che non mi andava, allora, è un discorso che io ho forse introdotto leva al forse, l'ho un po' introdotto su Instagram chi mi segue su Instagram sicuramente si sarà accorto che negli ultimi mesi ci sono tante cose che non vanno benissimo e vabbè è capitato magari che qualche volta lo dicessi anche qui probabilmente ve ne siete accorti anche qui su YouTube insomma ci sono tante cose nella mia vita in questo momento che hanno bisogno di essere un po' aggiustate per vari ed eventuali motivi io non ho mai parlato tantissimo della mia vita privata e probabilmente continuerà così perché non me la sento ecco di intavolare certi discorsi della mia vita certe problematiche nel senso non ho di certe problematiche non ho mai fatto mistero e di certi problemi perché è capitato che magari ne parlassi in un momento in cui parlavo di certi romanzi e quindi sono questioni che sono saltate fuori altre magari no e forse non salteranno fuori mai di certe me la sono sentita perché è stato molto bello che poi tante persone mi hanno scritto in privato mi hanno detto grazie Penny che ne hai parlato perché da questo momento mi sono sentita anche io di parlarne di più e questa è una cosa molto bella perché secondo me mascherare e far vedere soltanto la facciata del tutto bello tutto bellissimo va tutto sempre benissimo non va bene e questo siamo tutti d'accordo perché la vita non è quello certo la vita non è solo quello che mostriamo sui social come non è soltanto quello che mostriamo qua su youtube o quello che appunto mostriamo soltanto su instagram è soltanto quella una minima parte è chiaro che c'è molto di più ma se ogni tanto possiamo mostrare anche quella minima parte che non va o che c'è di problema secondo me è buono perché anche nel mio piccolissimo angolo che è veramente piccolo può essere un aiuto magari per una persona che in quel momento magari mi segue e non si sente di parlare di un determinato problema quindi io non nascondo che ci sono stati dei problemi comunque è questo un periodo di tanti cambiamenti tanti o magari non tanti ma sicuramente grossi e che mi danno tanto da pensare perché sapete che comunque cioè il normale nascosto deve essere una persona che soffre d'ansia ed è chiaro che nei momenti di preoccupazioni i problemi d'ansia aumentano quando uno è tranquillo sa anche gestire i problemi d'ansia quando uno non è tranquillo i problemi d'ansia aumentano a dismisura e uno fa molta fatica a gestirli molta 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 fatica a gestirli non è soltanto ovvio i problemi d'ansia ce ne sono di altri diversi tipi in cui c'è un gattino che cerca di intrufolarsi e quindi cosa c'entra tutto ciò con il canale al di là di tutti i miei problemi privati diciamo che sì sto avendo un po' di problemi con il canale su youtube nel senso che sono un po' stanca ecco cioè voi siete un gruppo bellissimo io lo dico sempre ed è vero però io sono un po' stanca non lo nego perché cioè poi la stanchezza porta la delusione o forse la delusione che porta la stanchezza non lo so a me non piace lamentarmi io non ho mai amato le persone che si lamentavano di youtube che si lamentavano di dove andava il loro canale o di dove non andava il loro canale di quello che ottenevano o non ottenevano non sono non mi è mai piaciuto questo modo di fare però ogni tanto è ovvio che in undici anni perché io sono undici anni che sono qua è ovvio che ogni tanto scappa scappa questo momento di di delusione di pensare che ci sono delle persone che fanno molto meno rispetto magari a quello che stai facendo tu e però sono riuscita ad arrivare molto più avanti rispetto a te e questa cosa è ovvio che un po' fa male cioè è innegabile questo e non sarei umana se io non lo pensassi ed è chiaro che in un momento in cui io sono già magari provata per tanti altri motivi avere questo angolo che è chiaro che dà gioia e felicità però notare anche quest'altra cosa è un po' un coccatenarsi di eventi cioè è il mi è capitato di pensare anche quello e quindi e questo a volte non dà la spinta per dire vabbè allora cercherò di fare ancora meglio cioè purtroppo in questo momento il mio pensiero è mi sono rotta i coglioni basta che non è un basta chiudo tutto basta addio mi sono cioè è un basta del allora chiudere tutto no perché non sono il tipo perché cioè 11 anni sono tanti e mi scoccerebbe troppo sono sincera poi gli vince l'orgoglio ovviamente però è chiaro che c'è un po' di delusione c'è e questo è innegabile perché io non sono allora non ho un'autostima la mia che sono sincera è sempre stata sotto al tappeto raramente mi sono detta sei o mi dico sei brava cioè è una cosa che proprio è al di fuori di me stessa e non mi piace neanche quando me lo dicono gli altri perché quando gli altri me lo dicono io abbasto lo sguardo dicono no 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 per carità di Dio perché è una cosa che non mi piace e io mi stupisco ancora adesso e quando io vi dico mi viene da piangere quando voi mi taggate nei libri che comprate su Instagram o mi dite l'ho comprato perché l'hai detto tu io cioè sono sincera non lo dico per per come dire per modo di dire veramente mi si stringe il cuore quando voi cioè io non ci credo ancora adesso dopo undici anni che voi vi comprate la roba che io perché io ho consigliato un romanzo e voi veramente ve la andate a comprare cioè una cosa che a me per me è ancora incredibile adesso io dico veramente ci sono delle persone che non mi conoscono c'è un conto è un'amica che è con me in libreria e dice ah davvero è bello allora me lo compro perché ok ci conosciamo e si fida di me ma voi non mi conoscete personalmente e vi fidate a tal punto di andarvi a comprare un libro che io vi ho consigliato cioè per me è una cosa fuori di testa questa però è ovvio che non so come dirvi scatta un po' la delusione perché non che allora attenzione magari uno può pensare dove pensavi di arrivare no no io non pensavo di fare il botto i grandi numeri cioè non pensate che io in questo momento mi vedevo che ne so a capo della casa editrice no assolutamente perché non è mai stato il mio obiettivo una cosa del genere zero totale zero è che a volte io mi sento come se io mi sono sforzata per che ne so fare arrivare dei romanzi a voi fare arrivare delle letture a voi e poi sembra che invece queste letture che sono stata io magari a promuoverle vengono riconosciute da altre persone e questa è soltanto una delle cose che un po' mi ha dato fastidio sono sincera ma è una delle tante perché fa un po' male perché tu dici però ce l'ho stata anche cioè nel senso l'ho fatto anch'io questa cosa è ok promozione della lettura va bene ci sta ok può succedere è un momento di stanca è capitato pace però sono state anche tante altre cose in realtà questa è soltanto una però non lo so sono sincera vedo delle cose che mi murtano molti nervi e lo so che è marketing che anche i libri sono marketing che anche i libri vanno venduti però ci sono robe che mi deludono profondamente e io dovrei farmele passare sopra queste cose però ci sono tante cose c'è tanta superficialità che mi dà profondamente fastidio tanta superficialità e e per come sono fatta io e forse cioè che poi no vaffanculo mi dà fastidio dire sono fatta sbagliata no non è vero però mi urta e quindi e quindi tutto questo sistema sta iniziando a darmi molto ai nervi e forse non mi dava fastidio undici anni fa perché avevo venticinque anni a parte il fatto che ero forse più idealista di adesso adesso sono forse più un picoglioni non lo so però adesso mi sta stancando io forse dovrei sbattermene ma non sono mai stata capace di farlo non sono mai stata quella che si fa scivolare le cose di dosso io purtroppo le ho sempre vissute fin troppo e mi sa che questo discorso ci torniamo su perché dobbiamo parlare di un libro di cui tra l'altro non sapevo neanche se parlarmene proprio perché me lo sono sentita un po' tanto come maccino addosso forse quindi ce lo leviamo subito parliamo subito di quello proprio perché parla di una tematica che mi sono sentita tanto ed è infatti un romanzo di cui io oggi non volevo parlarvi proprio per quello e ho detto io non ne parlo cioè faccio finta che non l'ho letto sto libro e lasciamo perdere però poi mi sono detta senti tanto alla fine sta pappina qua la fai e quindi tanto vale che ci attacchi dentro anche sto romanzo e vi andare e niente ecco non so se è questo discorso che ho fatto senso però ecco se vedrete dei video un po' più diradati poi non lo so se farò non farò questa cosa però ci tenevo ecco a dirvelo perché voi siete qua da tanti anni e io ne ho parlato solo su Instagram ma mi sentivo di parlare anche a tutti voi che siete qua su YouTube tutto qua quindi se mi vedete un po' stanca e un po' tirata per via di questa cosa insomma cioè il motivo è questo fondamentalmente che sono stanca e tirata perché perché per una volta mi lamentò anch'io di quello che sta succedendo ecco no fondamentalmente quello non è mai successo in undici anni prima o poi dovevo rompere i maroni pure io ecco cioè dovevo arrivare anche io a sta cosa e mi dispiace perché vi giuro odio doverlo fare odio doverlo fare è una cosa che non sopporto e e mi fa sentire profondamente in colpa ma vabbè io cioè mi ci sento tipo sempre e basta ok iniziamo a parlare di libri e cerchiamo di tirarci sul morale anche se poi non c'è tanto a tirarsi sul morale sempre i libri allegri che leggo sempre io allora leviamoci il studente il dolore con sto romanzo che è tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli io l'ho ascoltato non l'ho letto questo romanzo in audiolibro il mese di settembre non è stato tantissimo favorevole per quanto riguarda le letture ottobre è stato ancora meno favorevole rispetto a settembre perché agosto non è stato un grandissimo mese non sono stati dei bellissimi mesi e quindi ho deciso di attivare questa prova gratuita di Storytel e ho provato ad ascoltare questo vi dirò letto non è letto benissimo perché c'è questo specie di finto accento romano che non è molto piacevole da ascoltare è piuttosto fastidioso che però mi ha aiutato un attimino a non immergermi troppo nella storia e forse da un certo punto di vista è stato utile perché credo che mi avrebbe devastata abbastanza tanto semplicemente vi dico proprio due cose due è la storia di Daniele che è in ospedale siamo nell'estate del 1994 ed è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio perché ha massacrato il padre di botte perché ha tentato il suicidio e perché ha dei problemi di salute mentale abbastanza importanti tutto qua in reparto conosce tutta un'altra serie di persone di uomini che hanno anche loro dei problemi di salute mentale più o meno gravi e stringe con loro appunto durante questa settimana di DTSO un'amicizia piuttosto forte dovuto appunto al fatto anche di dover comunque condividere il come dire la giornata con loro e cerca appunto di capire qualcosa di più di se stesso anche se in realtà vi dirò è molto lucido per quanto riguarda la propria salute mentale e tutta la come dire la propria malattia non ne fa mistero non non cerca di nasconderla è un romanzo che leggendo qua e là qualche recensione parlandone anche così è saltato fuori che ad alcuni non allora ha vinto il primo strega giovani però a molti è piaciuto ad alcuni non è piaciuto per via di qualche pezzo qua e là molto come dire retorico a quanto pare con una scrittura forse un po' troppo pomposa io non l'ho trovato troppo retorico troppo pomposo l'ho trovato molto onesto sono sincera Daniele soffre di problemi d'ansia soffre di tante problematiche ma il problema più come dire importante è di avere una sensibilità molto spiccata che lo porta chiaramente ad avere tutta quest'altra serie di problemi perché avere una sensibilità molto spiccata o ad essere persone altamente sensibili adesso si dice ti porta a vedere il mondo in maniera diversa e a percepire il mondo in maniera diversa non so neanche come definirla perché non è una patologia è un modo di essere che è difficile da spiegare come tutte le malattie mentali in realtà malattie o comunque che poi non mi va neanche allora non le voglio neanche chiamare malattie sono stati d'essere non so come spiegarlo essere persone altamente sensibili cioè appunto vi dicevo è difficile da spiegare se non lo si è e lo si può spiegare fino alla nausea a una persona che non lo è ma tanto quella persona purtroppo senza fargli una colpa non lo capirà mai è percepire tutto quanto il mondo e le emozioni non soltanto le proprie ma anche di chi ti sta vicino moltiplicate per cento e per mille per un milione ed è difficilissimo essere così è da qui il titolo tutto chiede salvezza perché poi è ovvio che ci sono tematiche che magari ci colpiscono di più ed altre che magari ci colpiscono di meno però è sentire tutto amplificato è chiaro che quando tu senti amplificato le emozioni positive è bello tra virgolette anche se è strano per le persone che ti sono vicine perché quando tu senti la felicità moltiplicata mille hai delle reazioni a volte spropositate quindi magari piangi perché sei felice ma quello magari è il meno uno dice vabbè ma quello è normale cioè può succedere dipende dalla misura del pianto dipende dalla misura della felicità dall'euforia che tu puoi avere quando succede qualcosa di bello cioè è è diverso cioè a volte veramente fai fatica a contenere la gioia perché tu senti tutto di più il problema è quando tu percepisci la gamma delle emozioni negative quello è difficile cioè è qualcosa molto complesso da gestire è chiaro che una persona come Daniele ma una qualsiasi persona che nel momento in cui si rende conto di essere così ha bisogno ovviamente ad un certo punto se non è in grado chiaramente di gestirle di chiedere aiuto ma Daniele ha chiesto più di una volta aiuto Daniele prende anche dei farmaci ma non riesce a gestire questa cosa perché gli porta tutta un'altra serie di patologie e di problematiche e lui si rende conto di tutta una serie di ingiustizie del mondo e questa cosa gli manda in blackout completamente al cervello perché non sa come fare cioè perché è come se tutto il mondo avesse bisogno di aiuto e lui non può aiutare tutti quanti ed è questo che succede nella sua testa e per me è stato cioè mi ha mandato veramente mi ha fatto scoprire il cervello leggere di una persona che è stato come finalmente leggere di una persona che mi sono sentita compresa ho detto ok è effettivamente così perché è questo essere una persona che ha una sensibilità così spiccata essere persone altamente sensibili è effettivamente così cioè è difficile cioè è difficile stare nel mondo ad essere così perché tu senti sempre tutto a tremila ed è complicatissimo e vi ripeto è difficile farlo comprendere alle persone che purtroppo non non lo vivono e Daniele purtroppo deve combattere anche contro questa cosa e anche quelli che vengono che nel appunto le persone che dicevano ci sono dei pezzi che sono sembrano molto retorici e che a volte lui sembra che attacca questi pipponi non sono retorici è che facciamo proprio della retorica noi perché a volte nella nostra testa c'è questo desiderio di salvare l'insalvabile il mondo può capitare di che ne so ti svegli la mattina apri un qualsiasi giornale online tu scopri che c'è un'ingiustizia dall'altra parte del mondo che nessuno si incula e tu improvvisamente te la prendi a male per quella ingiustizia e mi rendo conto che dopo magari inizi a fare della retorica su quella ingiustizia e una persona qualunque ti dice ok ma che cazzo ci puoi fare tu stai qui e quella ingiustizia sta da 12.000 km dall'altra parte e quindi e però tu dici e quindi ho capito però dovremmo fare qualcosa dovremmo è chiaro che è il retorico perché dopo tu parti con un pippone atomico sul fatto che però forse dovremmo partire fare organizzare un aiuto umanitario è chiaro che ma questo è il meno perché finché tu parti con la roba pratica del organizziamo facciamo e quello lì è la parte pratica ma prima c'è tutta la pippona ritorica sul fatto che è il mondo che è sbagliato e non è stato mai fatto nulla perché se invece fosse successo è chiaro che è retorica però succede perché le persone che hanno questo genere partono con queste pippate retoriche ed è così e quindi cioè quando io ho letto eh ma c'è questo problema io ho pensato no non c'è questo problema succede è così è così si fanno tutti questi bei discorsoni nella nostra testa li facciamo anche alle persone che ci guardano come se fossimo matti perché è così però tant'è purtroppo è ovvio uno dopo impara a controllarsi e dice è meglio questo zitto che me le dico soltanto io in testa ste robe o le dico una persona che lo sa che io ho questo genere come dire di problema e che mi fa sì 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 mi lascia parlare quella mezz'oretta in cui io mi sfogo poi dice tanto lo so che prima o poi le passa e fine e quindi ehm io l'ho trovato un bellissimo romanzo sono sincero cioè a posteriori ripensandoci eh l'ho trovato un romanzo molto bello molto eh è uno di quei romanzi che darei da leggere una persona e gli direi guarda puoi cercare di non dico comprendermi al 200% io non sono esattamente così come la persona chiaramente descritta in questo libro però vuoi iniziare a capire un po' meglio come a volte io mi sento nella nell'arco della mia giornata toh prova a iniziare a leggere questo non sono sempre così però ogni tanto io così mi ci sento e non lo so forse se leggi questo puoi iniziare a capire come sono io e e quindi eccolo per quello l'ho trovato un ottimo romanzo ecco cambiamo completamente genere ho letto ho trovato e ho letto praticamente subito Butcher's Crossing di John Williams voi sapete che alcuni anni fa cioè chi di voi è qua da un po' di tempo amore ecco vai per compagnia secco alcuni anni fa avevo recuperato Stoner di John Williams che non avevo amato particolarmente basta che non vi menate grazie e Stoner dovrei rileggere sono sincera molto probabilmente ero abbastanza piccoletta quindi non era proprio il romanzo come dire ideale per la mia età forse è un romanzo che va letto quando uno è un po' più grandicello per essere compreso appieno o almeno per me ecco per me Butcher's Crossing è un romanzo western ed è un romanzo di formazione ed è un romanzo che a me è piaciuto tantissimo è la storia di Will Andrews che è questo ventenne siamo nel Kansas nel 1873 e William Andrews appunto è un sognatore è un romanzo che ho trovato molto no l'ho messo sotto il computer è un romanzo che ho trovato molto simile a uno dei nostri di Willa Cudder di cui vi ho parlato nell'ultimo T-Time Book Club William Andrews e Claude Wheeler che era il protagonista di quell'altro romanzo si assomigliano molto come personaggi ma hanno come dire due percorsi praticamente che fanno questo cioè viaggiano su due proprio binari completamente opposti cioè da una parte c'è Claude Wheeler di Uno dei Nostri che sogna di andarsene dal Nebraska di partire di andare all'università e di scomparire praticamente da questa natura dove lui è cresciuto e dove in teoria si sente ingabbiato invece qui William fa completamente il contrario cioè William molla l'università non mi ricordo se era a Princeton o a Boston dov'è che era è un bostoniano è a Boston forse sarà Princeton vabbè molla l'università perché lui si sente invece ingabbiato lì dentro questa università lui si sente non realizzato all'interno di questo sistema lui decide di tornare alla natura selvaggia lui sente il richiamo di questo di questo mondo di una volta e vuole vuole partire all'avventura vuole fare questo viaggio alla ricerca appunto di questi di questi bufali vuole dimenticare le strade trafficate delle canti di Boston e quindi vuole fare appunto quello che facevano la caccia grossa andare a catturare i bufali le pelli e quant'altro e quindi fa questa ricerca di mettere insieme questo gruppo di vari personaggi tra cui appunto c'è il capo di questo gruppo questo Miller che gli farà un po' da guida che però Miller ha tutta una serie di problemi suoi che ha questo obiettivo no e ha questo anche lui anche Miller in realtà è stato sconfitto più o più volte dalla vita e quindi sì vuole fargli da guida ma forse non è la guida migliore che potrebbe trovare Will e e Will spera di riuscire non lo so a trovare se stesso a crescere a crescere meglio nella natura rispetto nel mondo che è nel mondo diciamo più preciso pulito moderno che è quello dell'università della città è un romanzo di formazione questo di John Williams rispetto a Stoner che forse era più di sformazione se mi passate la parola che era sicuramente completamente diverso ecco era un romanzo molto di delusioni e via dicendo Stoner non che questo abbia come dire tutto sto gran finale lieto cioè è chiaro che si percepisce già la il fatto che non si concluderà benissimo questa come dire spedizione nella natura è John Williams e è chiaro che per crescere bisogna prendere la batosta perché il senso è questo nei romanzi di formazione il senso è questo cioè tu vuoi diventare adulto tu ragazzino vuoi diventare adulto devi prendere qua la bastonata tra capo e collo per forza perché se no adulto non ci diventerai c'è un'erequitezza di fondo di tutti quanti i personaggi è ovvio tutti soprattutto Miller e ovviamente William sono molto belle le scene nel momento in cui questo gruppo parte di questo gruppo molto sgangherato questo gruppo parte e si ritrova in mezzo a questa natura selvaggia le descrizioni della natura sono stupende cioè ti sembra di essere veramente in mezzo alla natura ti sembra di percepire proprio la la cattiveria e la rudezza della natura soprattutto nel momento in cui arriva l'inverno e questi in teoria non sono neanche attrezzati per per affrontare l'inverno e sono descrizioni meravigliose è un romanzo che a me è piaciuto tantissimo e è un romanzo che di cui non posso dirvi troppo perché se no ve lo ve lo rovino è un romanzo in cui la natura la fa da padrone la fa da padrone sin da subito perché appunto è nel momento in cui Will abbandona la città per andare in questo mondo tu sai che i due giocatori saranno l'uomo e la natura il fatto è che chi è che vince sempre cioè non c'è partita è quella questione soprattutto in un momento storico come il 1878 ma in generale cioè voi provate a pensarci cioè tutte le volte che l'uomo ci ha provato a domare la natura per un po' può vincere l'uomo ma alla fine e qua succede perché anche qui l'uomo per un po' alla fine può vincere e può provare a domare la natura e anche qua per un po' vince ma poi alla fine è la natura che doma l'uomo e l'uomo deve provare a sopravvivere cosa che qua succede ma bisogna vedere se dopo ce la fa e non prende la batosta c'è un'innocenza di fondo che mantiene sempre che mantiene sempre Will che è una cosa che ho apprezzato tanto cioè io pensavo che che avrebbe avuto un come dire un fondo più alla stoner in cui tu percepivi una negatività di fondo sempre totale e invece qui è un po' diverso cioè a me il finale è piaciuto molto io non vi dico nulla però l'ho amato molto forse perché il personaggio è molto giovane e quindi io non cioè per quanto tu ci provi un ragazzo di 20 anni non lo puoi spezzare così facilmente può prenderne tante di batoste però al fin dei conti è sempre 20 anni e quindi cioè a 20 anni prima di riuscire a spezzare un ragazzo cioè nel senso finché non arriva un bel posto di età ne deve prendere di batoste uno prima di dire vabbè basta mollo a 20 anni le prendi però cosa fai ti rialzi e dici vabbè ricominciamo non può finire così non può essere così per quanto tutti gliele dicano ragazzo basta ragazzo tornate alla tua vita ragazzo rimane comunque di coccio William cresce perché appunto è un romanzo di formazione cresce perché gli succedono varie vicende nel corso del libro ma ho amato molto come sia reale cioè come effettivamente lui si comporti da ragazzo di quell'età cioè tutti noi a 20 anni le batoste le abbiamo prese ma tanti di noi non hanno mollato poi è ovvio non tutti è così perché purtroppo c'è chi anche a 20 anni poi non regge però ho apprezzato molto ecco mi è piaciuto veramente tanto allora romanzo un po' delusione e romanzo con cui probabilmente chiuderò per sempre i miei rapporti con l'autrice è questo Quando cadono gli angeli di Tracy Chevalier questo romanzo me l'aveva recuperato Chiari in Emmaus ho pagato un euro credo se non mi ricordo male ma è molto poco comunque io l'avevo già letto alcuni anni fa Chiari l'ha trovato costava molto poco ho detto dai recuperamelo così me lo rileggo perché è ambientato poco dopo la morte della regina Vittoria è ambientato nel mondo dell'arte cimiteriale nel Regno Unito in Inghilterra a Londra se non mi ricordo a Londra molto probabilmente e quindi ho detto prova a rileggermelo questo perché ero appena tra l'altro ritornata adesso non mi ricordo se l'ho letto quando sono tornata dalla vacanza in Inghilterra o dalla vacanza a Londra non mi ricordo quale delle due una delle due quindi ero presa bene e ho detto lo rileggo allora la storia di Kitty Coleman non ha mai potuto sopportare quel benedetto cimitero dove si trova con Richard suo marito e Maud la sua bambina e questa diciamo è la prima coppia poi c'è un'altra coppia che è quella di Albert e Gertrude Waterhouse che sono i proprietari della tomba vicina a quella dei Coleman con la tomba con la tomba sormontata da un angelo tanto sproporzionato e Melenzo da far uscire di senno suo marito Richard di Kitty Coleman no che hanno una figlia anche loro che è la vigna che ha la stessa età di Maud ora oltre a loro ci sono anche vabbè a parte che non mi ricordo quale delle due coppie aveva anche un'altra figlia ci sono anche altri personaggi secondari ora che poi vabbè questo non è importante il problema di questa di questo romanzo non è tanto l'intrecciarsi di queste due storie di queste due famiglie e di altre sottotrame del ambientata appunto in questo periodo storico che è quello della morte della regina Vittoria che è morta all'inizio del secolo del 1900 quindi ci sono poi tutta una serie di cambiamenti sociali economici bla 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 ci troviamo poi poco più avanti scoprirà la prima guerra mondiale ci sarà poi siamo nel periodo in cui comunque le donne iniziano a iniziano i movimenti delle delle suffragette quindi è un periodo abbastanza come dire pieno di cambiamenti e su cui si potrebbe scrivere di tutti più è un periodo in cui nascono tutti i vari movimenti nazionalisti insomma ce n'è del fermento in Europa in questo in questo periodo e anche nel nel Regno Unito e si potrebbe scrivere di tutti di più cioè come dire storicamente parlando senza star qui a farvi dei gran più polistorici c'è della ciccia ora Tracy Chevalier io non voglio essere snob assolutamente c'è a chi piace Tracy Chevalier io di lei ho già letto altri romanzi ho letto La Vergine Azzurra ho letto adesso ve lo dico quello con protagonista qua non c'è scritto perché è stato scritto dopo William Blake che non mi ricordo assolutamente come si chiama e credo di aver letto anche La Ragazza con l'Orecchino di Perla io non ribadisco la cioè non sto a discutere la sua scrittura perché non trovo che lei scriva male assolutamente io sto a contestare il fatto che lei scriva più o meno romanzi storici cioè io non li definirei assolutamente romanzi storici cioè lei usa il pretesto del romanzo storico della trama storica per costruirci sopra delle storie se queste storie fossero di questi personaggi fossero prese e staccate dal contesto storico e ambientate nel 2020 2022 2018 sarebbero la stessa identica cosa è chiaro che sono più affascinanti se sono ambientate nel 1901 nel 1782 nel 1650 per dire perché il come dire contesto storico dà sicuramente più fascino il fatto di inserirci Vermeer William Blake o quant'altro è chiaro che dà molto più interesse alla storia la regina vittoria e via dicendo dà tutto molto più interesse il problema è che lei ogni tanto si ricorda che sta scrivendo un romanzo ambientato in quell'epoca storica e vi ci butta dentro qualche riferimento all'epoca storica ma si ricorda così di botto ogni tot pagine ah sto scrivendo un romanzo storico aspetta che ti ci butto dentro il riferimento storico ma si ricorda ogni tanto io non la definisco scrittrice di romanzi storici perché secondo me questo non vuol dire scrivere un romanzo storico cioè un romanzo storico secondo me è tu prendi la base della storia cioè di quel periodo e tu ci fai muovere i personaggi con motivo di muoversi in quel periodo storico e con il senso di muoversi in quel periodo storico e con logica li puoi muovere in quel periodo storico qui ci sono dei personaggi che a volte si comportano parlano in maniera totalmente secondo me decontestualizzata dal periodo storico ma anche che fossero contestualizzati ti sembra che veramente se tu li portassi via da lì dal inizio secolo e li portassi nel 2018 per esempio andrebbe bene uguale o li portassi nel 1795 andrebbe bene uguale lo stesso cioè non non ti sembra che siano personaggi che appartengono a quell'epoca storica perché manca totalmente il setting dell'epoca storica perché viene nominata pochissimo l'epoca storica ogni tanto ad un certo punto ecco tipo ad un certo punto uno dei personaggi si affiglia al movimento delle suffragette e tu dici ma cioè ci siamo ricordati che ci sono le suffragette all'epoca così di colpo ed è non senso cioè a me questa cosa non non mi piace tanto dirla vuoi dire non dirla allora però mi sembra tipo romanzo storico for dummies cioè voglio leggere un romanzo storico ma non mi voglio fare lo sforzo di leggere un romanzo storico che allora mi viene da dire cioè se non ti piace il romanzo storico non leggere il romanzo storico perché nessuno vi obbliga a leggere il romanzo storico sono sincera perché il romanzo storico non è che può piacere a tutti cioè vedo le amiche che non li leggono perché dice a me non piace la storia non mi leggo il romanzo storico che ci sta è come uno che mi dice perché io mi devo leggere un romanzo horror per farmi l'angoscia tutto il tempo e odio avere l'angoscia tutto il tempo ma giustamente ma ci mancherebbe altro come io dico io non leggo i romanzi d'amore perché io mi annoio a leggere tutto il tempo di questi che si mettono insieme non si mettono insieme non si mettono insieme non si mettono insieme cioè ci sta ognuno ha i suoi gusti e ognuno legge quello che vuole io sono assolutamente di questo parere e lo sapete sono proprio la zero totale da quel punto di vista però scrivere un romanzo storico come dire edulcorato io non cioè non non lo so sarà che allora sicuramente questo è il mio problema perché secondo me Tracy Chevalier scrive bene assolutamente cioè come scrittura è bella è scorrevole il mio fastidio è che essendo abituata dei romanzi storici in cui si parla tanto della storia dell'ambientazione storica ecco cioè ogni tanto che lei mi butti lì così pam 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 così ma ogni 50 pagine ah comunque mi sono ricordata che il periodo storico è quello cioè mi sembra quasi una presa in giro e magari è solo questo romanzo vorrei dire ma in realtà no perché io mi ricordo perché avendo le lette degli altri che il suo problema è proprio reiterato in tutti i libri che lei scrive e quindi per questo vi dico è tipo un romanzo storico for dummies poi oh ragazzi a uno può piacere uno mi dice guarda a me piace il romanzo storico scritto così perché il romanzo storico normale a me mi rompe i coglioni e quindi lascia stare perché a me piace la tresi che baglie perché mi rilassa il cervello e io allora vi dico allora se ti rilassa il cervello leggitelo perché ci sta ti rilassa il cervello ci sta grande vai cioè come quelli che mi dicono io mi leggo romanzo d'amore perché io lo so che questi litigeranno per 250 pagine poi alla fine si sposano eh fanno 87 figli e sono felici e contenti mi rilassa il cervello brava fai bene amica amico leggitelo perché va bene cioè ti rilassa il cervello per me a cavallo cioè io ho riscontrato questi difetti per te possono essere sono pregi tanto di cappello leggitelo allora Tracy Chevalier se non sei amante dei romanzi storici e vuoi però un po' di background storico così un po' buttatoli così allora tuo assolutamente prossimo romanzo che non ho anche questo non l'ho letto ma l'ho ascoltato di Taylor Jenkins Reed Taylor Reed Jenkins non mi ricordo mai dove va quella Reed è Daisy Johnson and the six anche questo ho ascoltato quando avevo l'abbonamento su Storytel questo mi è piaciuto molto come è stato letto perché ha 1500 voci perché è costruito come se fosse una intervista ai membri di questo gruppo rock degli anni 70 di cui vi viene raccontato attraverso appunto le loro parole ascesa successo e infine lo scioglimento dopo alcuni anni è un gruppo enorme gigantesco che ha avuto un successo pazzesco che è formato appunto da Daisy Jones e da quest'altro gruppo che a un certo punto gli è stato accorpato che è il gruppo di Billy Dunn che adesso non me li ricordo tutti gli altri c'era Billy c'era Graham c'era Karen e Graham era fratello di Billy tutti gli altri non me li ricordo perché sono tanti Daisy Jones è iniziato da solista e poi appunto si sono messi tutti quanti loro insieme è un romanzo pazzesco perché vi restituisce appunto un ritratto dell'epoca Daisy Jones and the Six non esistono non esistono assolutamente è un gruppo che non esiste è un mix probabilmente di storie di gruppi dell'epoca e Fleetwood Mac e quant'altro soprattutto adesso vi ricordano un po' quelli e vi sentite un po' ecco le canzoni loro nella testa perché poi come dire tutte le varie storie di sesso droga e rock and roll vi possono ricordare vari ed eventuali gruppi che sono esistiti in quel periodo e i locali citati vi possono anche ricordare a me sono ultimamente anche i Doors insomma vi ricordano un po' ecco quel mondo la come dire i gruppi americani di quel periodo e è pazzesco perché è un racconto appunto dei gruppi musicali e dell'America e della musica americana degli anni 70 che sappiamo che insomma per chi è amante della musica e della pazzia musicale dell'epoca è veramente magico ecco è da farsi venire a pelle d'oca se siete fan di Almost Famous del film è una roba che vi manda fuori di testa assolutamente la cosa che vi spezza è che quando questi citano le canzoni voi non le sentite le canzoni perché loro ad un certo punto mi fanno tutta una serie di citazioni alle canzoni che scrivono voi sentite i testi li sentite perché questi come dire vi raccontano i testi delle canzoni e che hanno scritto e soprattutto perché alcuni testi hanno dei riferimenti alla vita privata di Daisy e di di Billy soprattutto perché sono loro due tra Daisy e Billy a un certo punto inizia questo rapporto che è conflittuale poi potete immaginare però che cosa può scattare il problema che Billy ha anche sposato Billy ha dei problemi di droga Daisy ha dei problemi di droga poi ovviamente scattano anche delle varie altre simpatie all'interno del gruppo ci sono varie tematiche che sono affrontate all'interno del romanzo non soltanto tematiche appunto delle relazioni o non all'interno del gruppo c'è la tematica anche per esempio della maternità nel personaggio di Camilla che è la moglie di Billy nel personaggio di Karen ma non pensate che venga affrontata per esempio la tematica della maternità semplicemente come vabbè io sono la moglie di io voglio un figlio non voglio un figlio ci sono o il fatto del essere che ne so la donna del gruppo o la musa ecco questo no c'è una frase bellissima che dice Daisy ad un certo punto che è una roba del tipo io non voglio essere la musa di qualcuno io voglio essere quel qualcuno che è bellissima su questa cosa che dice lei e quindi è molto interessante come come romanzo non so come sia effettivamente in forma scritta in forma da ascoltare io l'ho trovato molto bello proprio perché sembra di ascoltare dei nastri registrati in cui appunto c'è questa perché c'è questa giornalista che va dai vari membri del gruppo dopo un tot di anni ovviamente che il gruppo si è sciolto e l'intervista e quindi loro si raccontano raccontano le vicende dai vari punti di vista in un momento è Daisy che racconta poi Karen, Graham, Billy Camilla insomma e quindi voi ricostruite la storia ascoltando le varie voci e vi ricostruisce appunto questo ritratto come vi dicevo prima di quest'epoca incredibile dal punto di vista musicale e vi sembra appunto di rivivere quasi Almost Famous da un certo punto di vista ma da lì dentro della band Almost Famous voi lo vedevate dal di fuori perché ve lo raccontava questo ragazzo appunto che doveva scrivere questo articolo per Rolling Stones non so se c'è ancora qualcuno di voi che non l'ha visto Almost Famous forse sì forse no fate un favore alla Penny Lane per favore andate a guardarvi Almost Famous se non l'avete mai visto e c'è questo ragazzino protagonista di Almost Famous questo ragazzo molto giovane il nemico che deve scrivere questo articolo per Rolling Stones e quindi segue questa band che sono gli Steel Water anche lì era una band che era totalmente inventata che però si basava su delle band reali tra cui gli Zeppelin e via dicendo e li segue in questa tournée negli Stati Uniti e appunto lui vede attraverso i suoi occhi cosa vuol dire tutti i vari casini che possono nascere anche all'interno di una band quindi gli screzzi tra il frontman e il chitarrista gli screzzi possono nascere tra i giornalisti e i membri della band le gruppi che seguono perché all'epoca c'erano le gruppi c'erano i roadies che seguivano la band c'erano le mogli che però rimanevano poi non è detto che seguivano la band ecco le mogli c'erano però tutto sto stuolo di fan che seguivano che ovviamente facevano dentro e fuori dalle camere e dagli alberghi e via dicendo insomma era una totale follia è che di band del genere adesso come adesso che facevano casini come all'epoca non ce ne sono più quella questione cioè di questo genere di band tutte assieme tra l'altro perché ogni tanto qualcuna ne salta fuori ancora ogni tanto salta fuori qualche band che fa dei successi straordinari che muove le masse di folle urlanti e di donne urlanti e quant'altro quello sì per carità qualcuno ogni tanto salta fuori ancora ma che fanno veramente sto casino e soprattutto tutte assieme cioè questo cioè manca quella tutte insieme cioè 4, 5, 6, 7 band che tutte finivano nello stesso albergo e poi litigavano tra di loro cioè questo è sto bordello non c'è più stato ecco e cioè ti fa capire che era un'epoca veramente da un punto di vista era straordinaria scusate cioè a me io non l'ho mai vissuta quindi purtroppo capite che io ho vissuto delle epoche di band che fin dei conti sto pensando se litigavano tra di loro ma secondo me dai no cioè adesso ogni tanto si fanno capito i dispetti sui giornali cosa fanno c'è qualcuno che dice guarda quello sfigato guarda quell'altro non si rispondono neanche più un po' triste sto pensando fatemi pensare a parte quando ero ragazzina io ci si strappava i capelli per delle boy band che sono ok sto pensando sì quando ero ragazzina io nei primi 2000 2000 cioè le backstage boys quindi capito perché ci si strappava i capelli quando ero ragazzina io tutto bene ok l'ultima per cui ci si sono strappati i capelli io ero già grandina e quindi io non mi ci strappavo i capelli ma vedevo le altre che si strappavano i capelli e vorrei anche dimenticarmelo quel periodo magico magico magicissimo quindi non nominiamo desigione cioè desigione di six era proprio il glamour degli anni settanta adesso uscirà una serie televisiva per prime pazzesca mi immagino già cioè io non vedo l'ora di vederla sono sincera e quindi incredibile vorrei fare un collegamento però credo che non lo farò perché rimanerò una persona seria con quello che ho appena detto e però cazzarola mi è venuto così cioè è pazzesco ragazzi cioè vi giuro che non l'ho neanche programmato non l'ho programmato ma lo faccio ma non lo faccio ma lo faccio fare a voi perché secondo me potete farlo perché voglio mantenere una certa serietà una certa dignità parlandovi di questo romanzo perché voglio assolutamente che lo leggiate e dovrò cercare di vendervelo in tutte le maniere perché questo sarà il mio nuovo obiettivo il mio nuovo pacinco lo chiameremo questo il mio nuovo shantaram il mio nuovo non lo so come breve pausa perché stava diventando molto lungo quel video allora il prossimo romanzo di cui vi voglio parlare è questo My Policeman di Bethan Roberts questo romanzo che vi ho già fatto vedere tra l'altro su Instagram di cui vi ho già brevemente parlato nel video scorso è un romanzo che mi ha molto colpito e che a cui ho ripensato spesso ultimamente e di a cui appunto vorrei parlarvi non in maniera troppo approfondita ma banalmente perché non voglio eventualmente rovinarvi l'esperienza di lettura se deciderete di leggere è la storia di questi tre personaggi che sono Marion, Patrick e Tom Marion, Patrick e Tom vivono inizialmente nella Brighton degli anni 50 e più avanti nel romanzo invece ci troviamo nel 1999 è Marion a raccontare inizialmente mentre poi sarà Patrick Tom invece è il personaggio che viene raccontato ed è l'oggetto del desiderio di entrambi ed è l'uomo che è amato tra l'altro da entrambi non soltanto l'oggetto del desiderio inizialmente è l'oggetto del desiderio Marion si innamora di lui o se vogliamo si prende una cotta per lui quando sono entrambi molto giovani lui è il fratello di una di una sua amica banalmente come succede spesso è come dire molto dolce questo momento in cui viene raccontato quando lei lo incontra per la prima volta il fatto che lei abbia questa fascinazione incredibile per lui ma soltanto a livello fisico ma come succede ecco spesso il fatto che ci sia questa questo incontro velocissimo il fatto che Tom entri un attimo nella cameretta della sorella Marion lo veda e perda completamente la testa perché Tom è bello Tom ha questo sorriso luminoso affascinante atletico e Marion si ricorderà per anni appunto di questo fratello nonostante la sua amica gli dia questo mezzo avvertimento del guarda che però Tom ha qualcosa solo che Marion non ci vada non gli interessa questa cosa che le riferisce l'amica Marion continua con la sua vita va a fare l'insegnante a scuola tra l'altro ci sono queste pagine in cui appunto Marion inizia ad andare a fare l'insegnante a scuola che sono bellissime perché percepite tutta come dire il senso di inadeguatezza per chi sa perché per me questa parola è difficilissima da dire inadeguatezza ok e vi fa una tenerezza incredibile perché lei ha pochissima fiducia in se stessa ma più volte capita nel corso del romanzo anche quando si deve mettere in costume da bagno insomma crede molto poco in se stessa e ad un certo punto lei incrocia di nuovo Tom e la sua scusa diciamo per avvicinarlo è di farsi insegnare a nuotare ad un certo punto entra anche in gioco Patrick Patrick lavora in questo museo e si racconta tramite le pagine di un diario il diario che scrive è contemporaneo agli eventi mentre Marion lo sta scrivendo nel 1999 ricordando quello che è successo all'epoca Patrick appunto invece mano a mano Patrick incontra Tom che sta andando appunto al museo a vedere questi quadri che si sta appassionando d'arte e quant'altro e i due si incontrano il problema perché all'epoca è un problema è che Patrick è omosessuale Patrick è conscio della sua omosessualità ma la deve tenere nascosta perché nell'Inghilterra degli anni 50 l'omosessualità è illegale ed è punibile con la galera fino a questo agli anni 70 tra l'altro che è gravissimo ed è spaventoso se voi ci pensate perché gli anni 70 non è neanche tantissimo tempo fa è ovvio che scatta qualcosa tra Tom e Patrick è ovvio che questo qualcosa va tenuto nascosto noi sappiamo che Tom ad un certo punto si è sposato con Marion ma lo sappiamo perché nelle prime pagine del romanzo di una Marion già abbondantemente adulta i loro due vivono insieme e quindi sappiamo appunto che ad una certa questi due si sono sposati sappiamo che sono successe però delle cose in mezzo e delle vicende anche piuttosto gravi e sappiamo che non ci sono degli ottimi rapporti tra Marion e Tom ma non sappiamo che cosa è successo che ha spezzato questi rapporti è un romanzo di errori tanti che vengono fatti da queste persone errori che vengono fatti nel bene nel male non mi sono mai sentita di colpevolizzare necessariamente se non altro almeno un personaggio in particolare per averne fatto uno molto grave perché sono tutti molto umani nel loro modo di agire nessuno di loro si comporta in un determinato modo per fare realmente del male ad un altro lo fanno perché è un periodo storico che non ti permette di amare la persona che puoi amare e che vuoi amare agiscono tutti quanti nella maniera più sbagliata possibile è ovvio che col senno di poi molti di loro avrebbero potuto agire diversamente alcuni di loro avrebbero potuto evitare magari di nascondersi avrebbero potuto cambiare vita avrebbero potuto andarsene avrebbero potuto evitare di prendere certe decisioni però è sempre un se se non avessi fatto quello se non avessi fatto quell'altro se avessi deciso in un altro modo però è anche un ok ma col segno di poi io non me ne faccio niente perché in quel momento della mia vita io pensavo che quella decisione fosse quella più giusta quella più corretta in quel momento l'istinto mi ha portato a prendere quella decisione in quel momento la mia testa il mio cuore più che forse la mia testa mi ha detto fai quello perché pensavo forse non di fare del bene a quell'altra persona necessariamente ma forse per un momento alcuni hanno pensato sto facendo anche del bene per me stesso perché io voglio quella persona perché io amo quella persona e quindi io agisco così è sbagliato sto facendo del male a quell'altra sì però chi se ne frega perché a volte purtroppo per amore si fa anche quello cioè a volte l'amore ti acceca talmente tanto che ferisci anche un'altra per avere qualcosa per te è un romanzo complesso da quel punto di vista è un romanzo di vite spercate è un romanzo che alla fine ti devasta però secondo me il cioè il punto focale è che tu cioè nonostante tutto nonostante gli anni sprecati a crogiolarti negli errori che hai fatto se ami veramente qualcuno quella persona alla fine è lì e puoi comunque diglielo e puoi forse comunque recuperare qualcosa ma soprattutto fai sempre in tempo a chiedere perdono per l'azione sbagliata che hai fatto e fai sempre in tempo ad ottenerlo il perdono per quell'azione sbagliata che hai fatto cioè io credo che il punto focale di questo romanzo sia quello cioè non tanto il racconto di della relazione omosessuale sì c'è ok assolutamente ma non credo che sia il punto più importante della storia e non è per come dire distogliere l'attenzione da quella perché è assolutamente importante quella assolutamente perché ci troviamo in un periodo storico in cui le relazioni omosessuali erano proibite in cui addirittura si andava in galera e questo è gravissimo e nulla toglie a quello ma questo perché perché mi è capitato di leggere in giro dei commenti del cosa ne può sapere un'autrice eterosessuale donna di una relazione omosessuale come mi è capitato in giro di leggere a volte dei commenti ma di altri romanzi cosa ne può sapere un uomo etero di una donna di raccontare una donna cioè se voi leggete i romanzi di un Wilkie Collins che vi racconta dei suoi personaggi femminili cioè io un personaggio femminile raccontato da Wilkie Collins a volte neanche una donna sa scrivere così tanto bene di una donna quindi è questo che a me ha urtato molti nervi qui si si parla di una relazione omosessuale che è quella tra Tom e Patrick ma è importante assolutamente ma credo che il punto del romanzo non sia soltanto il racconto di questa storia d'amore è una storia d'amore quella tra Tom e Patrick è una storia d'amore quella tra Tom e Marion a modo suo è una storia d'amore anche quella a modo suo ovviamente è una storia di perdono è una storia di errori è una storia di vite sprecate è una storia che vi racconta di come si cerca alla fine in fondo alla propria vita ahimè di recuperare tutto quello che si è buttato via per tanti anni e se voi che leggete queste storie credete che forse si possa riuscire a recuperare in fondo alla fine tutto quello che appunto si è buttato via cioè io credo che alla fine sia questo quello che il romanzo cerca di raccontarci e cerca di dirci poi sta a voi che lo leggerete eventualmente dirmi se è questo chiaro che l'intolleranza nei confronti dei omosessuali sia una tematica molto importante è ovvio è ovvio perché se no l'autrice non l'avrebbe ambientata negli anni 50 non ci avrebbe raccontato la storia di questi due uomini che si amano e che purtroppo non possono vivere questa questa loro storia d'amore e questo è gravissimo è ovvio cioè quello che vi dico io cazzo fino agli anni 60 agli anni 70 perdonatemi cioè in galera si andava e cioè è una cosa che mi manda fuori di testa pensare a una roba del genere gli anni 70 cioè neanche dici gli anni 70 cioè io tutte le volte che ci penso e penso gli anni 70 dico mi sono allenata nel 74 e quindi io continuo a pensare a questa cosa e dico le anni 70 complimenti Regno Unito grande poi cercherò di essere molto breve perché secondo me avevo fatto un video già abbastanza eterno e sono stata molto lunga oggi e vi parlerò di questo di me giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yakisawa anche di questo forse ve l'ho già nominato quella da qualche parte allora questo romanzo che mi è stato regalato la selvaggia grazie l'ho letto molto velocemente a giugno in un momento abbastanza anche qui di chiusura avevo bisogno di qualcosa di molto breve e dove entrare nel video dei librini quelli corti ma non so perché me l'avevo completamente dimenticato perché l'avevo incarcagnato da qualche parte e quindi non l'avevo non l'avevo inserito ed è la storia di questa ragazza che adesso di cui mi ero dimenticata completamente il nome quando ho parlato di questo romanzo nel podcast Takako che è questo personaggio questa ragazza che è stata lasciata da questo suo collega di lavoro tra l'altro quindi lei si licenzia pure e ad un certo punto va a vivere da questo zio appunto che ha questa libreria che si chiama appunto libreria Morisaki che si trova nel quartiere di Jimbocho che spero si pronunci così a Tokyo che è il quartiere delle librerie cosa succede che lei nel momento in cui va appunto a casa di suo zio lei si chiude completamente in questa soffitta e dice io qua non ne esco più voglio stare qui non mi muovo da questo posto lo zio dice vabbè ascolta per i primi giorni puoi anche soffocare lì dentro sotto il piumetto nel tuo dolore e va bene però dopo un po' per favore scendimi in una mano cioè tu puoi stare qui gratis però dopo un po' scendimi in una mano quindi lei un po' per volte inizia a uscire dal piumetto a leggersi qualche libro qua e là e giorno dopo giorno si fa forza scende le scale e inizia a lavorare nel negozio con lo zio che anche lo zio ci ha avuto le sue belle delusioni d'amore che non vi sto a dire perché il libro è molto breve e quindi poi lo scoprirete ora so che la critica maggiore che è stata fatta a questo libro che non è le carne e le pesce che insomma non vuol dire un po' nulla questo romanzo perché è il classico romanzo giapponese che parla di uomo o donna che ha subito una delusione quindi cosa succede che va magari da un parente che in questo caso ha una libreria o poteva avere un qualsiasi tipo di negozio e cosa succede riscopre il senso della vita improvvisamente e poi gli va tutto bene ora è un filone diciamo in un certo senso della letteratura giapponese questo è un romanzo che sì poteva averlo scritto chiunque nel senso che non ha uno stile di scrittura particolarmente riconoscibile ma è proprio il bello di questo romanzo è un romanzo coccola cioè voi in un momento in cui magari siete un po' giù di umore in cui non avete tanta voglia di leggere qualcosa di particolarmente complesso in cui avete bisogno di farvi coccolare in cui avete bisogno di qualcosa che proprio vi vi dia gioia un romanzo che sapete che finisca bene voi lo tirate fuori dalla libreria e ve lo leggete non è niente di trascendentale è ovvio che finirà bene è ovvio che succederanno cose belle però è il suo bello è proprio quello in cui a volte ci sono anche queste come dire frasette che sicuramente sono magari un po' anche frasi fatte che però vi dico bisogna essere capaci anche a scrivere le frasi fatte perché a volte ci sono quelle frasi fatte che sembrano i post-it che va appiccicate o che sembrano quelle frasette fatte che si scrivevano sulla smemoranda quando andavamo al liceo a volte invece ci sono quelle frasi fatte che in realtà non sono frasi ma sono magari tutti dei discorsi che si fanno i personaggi e quindi ecco questo romando ci sono questi bei discorsi che si fanno lo zio e la nipote magari sul senso della vita sul senso delle relazioni sia tra amici tra relazioni invece anche amorose o il modo di vivere la propria vita che vi riscaldano il cuore c'è uno proprio di cui i libri sono sincera che in quel momento in cui io l'ho letto ne avevo bisogno avevo bisogno di sentirmi dire sì è vero in questo momento non va bene non va bene per niente esattamente come la protagonista di questo romanzo anche tu avresti voglia di prendere sbatterti sotto la coperta e di non uscire mai più anche tu vorresti avere uno zio che ti accoglie nella sua libreria e ti dice guarda stai chiusa in soffitta finché c'hai voglia però dopo scendimi nella mano però vedrai che dopo andrà tutto bene in qualche maniera poi andrà tutto bene cioè è quella sensazione lì no del ok è andata bene a lei allora in qualche maniera forse potrà andare bene anche a me che mi rendo conto che forse è una banalità forse è un'ingenuità però ti dà quella sensazione quel sollievo no nel momento in cui lo leggi lo finisci e fai proprio ok è successo a lei allora forse può succedere anche a me cioè ti dà leggerezza alla fine quando l'hai concluso e quindi io questi romanzi li apprezzo per quel motivo e perché sì non sono niente di trascendentale ma servono proprio per quello e quindi ce n'è proprio bisogno per questo motivo è la stessa cosa che vi dicevo prima di quelli che si leggono per esempio i romanzi rosa che si leggono certe tipologie di romanzo ecco io mi leggo questi romanzi mi leggo questi perché vi danno un sollievo proprio mentale incredibile e tra l'altro scusate la bellezza cioè il gattino sul libro scusate una delle cose più belle del mondo perdonatemi è assolutamente meravigliosa quindi io tra l'altro vi dovrei parlare di altri almeno due libri ma credo che questo video sia già durato fin troppo quindi secondo me ve ne parlerò nel prossimo video assolutamente nel prossimo tea time perché se no andiamo avanti in eterno io allora facciamo così sì ne parliamo nel prossimo io vi ringrazio tantissimo per la nuova visione e grazie per aver ascoltato tutto il pippotto iniziale fatemi sapere se avete letto o se leggerete alcuni di questi romanzi qua sotto come sempre ci sono i link ad instagram a twitter c'è la amazon shop c'è la mia wishlist di amazon e c'è coffee per sostenere il canale sapete che c'è la lista dei romanzi di cui io oggi vi ho parlato e basta se volete partecipare al salotto di lettura del passaggio in india vi metto il video qui da qualche parte che si terrà il 20 di novembre sia online che fisicamente in libreria a crema quindi io vi aspetto poi nel mese di dicembre e di gennaio ci saranno altri due romanzi sempre di letteratura inglese quindi stay tuned perché uscirà un video in cui ve lo spiego scusate come sempre se vedete un po' c'è sempre sto raspino e niente io vi ringrazio come sempre di essere qui e se vi va di lasciarmi dei commenti sotto al video per raccontarmi anche le vostre ultime letture i vostri commenti insomma questi romanzi sapete che mi fa sempre molto piacere leggervi io vi mando un bacio un abbraccio vi auguro buone letture e ci vediamo al prossimo video un bacio e a presto ciao